Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti al secondo appuntamento con Racing Time, il TG Notte. A Jedda è tutto pronto per un altro weekend di pista, però dovete credermi l'attenzione è tutta spostata nel paddock perché si rincorrono tante voci, anche qualcuna molto interessante che ci interessa da vicino. Ci sono state anche delle voci un po' pazze che onestamente non mi risultano, parleremo anche di questo e della situazione dei piloti Ferrari, dichiarazioni, stato di salute perché ne abbiamo uno che non sta tanto bene. Faremo tutto questo e molto altro però dopo la sigla, quindi sigla. Bene, allora iniziamo col parlare di pista come piace a noi, poi parliamo di tutti gli sviluppi che tutto quello che sta succedendo attorno alla Red Bull potrebbero prendere e c'è qualcosa di interessante anche per il team del Cavallino. Comunque adesso ne parliamo, ma prima di tutto parliamo dei due piloti. Mentre abbiamo da un lato, lo potete vedere anche in viso, un Sainz molto tirato perché oggi è stato male, addirittura ad un certo punto è ritornato in hotel per potersi riposare da quello che so, dalle mie informazioni non dovrebbe essere nulla di grave, domani dovrebbe essere regolarmente in pista, però oggi a un certo punto non ce l'ha fatta più a stare nel paddock perché oggi era la giornata delle interviste eccetera eccetera, delle promozioni con gli sponsor ed è dovuto e ha voluto tornare in hotel. Dall'altro lato abbiamo un Charles Leclerc molto 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 gasato, motivato, anche contento che dopo aver detto quelle cose molto belle su Vasser e sull'operato di Vasser di cui vi ho parlato nel video di oggi, ha parlato un po' del monoposto, del fatto che si sono concentrati sul discorso dei freni, che lui si augura che questo problema non ci sia più perché è molto fastidioso, gli ha praticamente massacrato una gara, ma soprattutto si dice contento della vettura e fiducioso per il resto della stagione. Sottolineando però che ancora oggi Max Verstappen è lontano ma il suo ottimismo deriva dal fatto che la vettura è genuina, cioè è una vettura guidabile che si può sviluppare bene, non ha dei limiti progettuali che invece quella dell'anno scorso aveva ed erano anche proprio mostruosi. Qui invece si può lavorare bene. È un'indicazione molto importante la fornita sulla guidabilità, non solo quando la vettura è da sola ma anche quando si trova in scia, dicendo che la difficoltà di stare dietro agli altri piloti quest'anno è molto minore rispetto all'anno scorso e questo è un punto non da poco a favore della F2024 come piace chiamarla a noi di Racing Time. Perché? Perché se la vettura viene disturbata poco da quella che c'è davanti significa che genera tantissima tenuta soprattutto col fondo, quindi un grande passo in avanti da parte della Ferrari. Questa è un'altra buona notizia. Speriamo che tutto quanto giri a dovere in modo da scoprire finalmente in una pista dove ci sono tante curve veloci di media, medio-alte e alta velocità il vero potenziale della Ferrari. Incrociamo le dita e speriamo bene. E a proposito andiamo a vedere anche l'ala della Ferrari perché oggi le abbiamo viste un po' tutte tranne quella della Ferrari che come potete vedere è più scarica in linea con tutti gli altri team e quella della McLaren che è un po' particolare. Guardiamola più da vicino perché ci accorgiamo che abbiamo una incavatura nella parte centrale dell'ala posteriore nel secondo elemento ma non solo in coda ma anche in cima. Vedete qui leggerissimamente va su l'ala e non è un'illusione ottica. È proprio così solo che è molto ridotto qui questa gobbettina che c'è. Di fatti da alcune inquadrature non si nota. E qui c'è questo scavo. Tutto ciò serve a dare meno tenuta al secondo elemento. Tutto qui. Un po' come ha fatto... Aspettate un attimo. Ecco ce l'abbiamo. Tiriamo fuori la manina. Dov'è la manina? Eccola. La Mercedes anche qui manca un pezzo di ala. Andiamo avanti perché voglio farvi vedere anche un'altra cosa. Anche qui mi occorre la manina. Eccola. Guardate qui. Li vedete? Qua ci troviamo in quale zona della monoposto? Quella dove c'è la luce di sicurezza che si accende in caso di poca visibilità. Quindi gara bagnata. Anche perché con la nebbia non ci risulta che corrono le Formula 1. Ebbene qui abbiamo il ritorno di un doppio deviatore di flusso. Due microalette che servono ad aiutare l'estrazione dal fondo. A quello servono. è un microaiuto al diffusore e a tutto l'ambaradam che c'è lì dietro dove ogni appendice aerodinamica aiuta e lavora per il compito principale. Cioè quello di togliere aria dal diffusore. Dall'estrattore. Quindi una trovata non originale perché l'abbiamo vista diverse volte. Anche l'anno scorso addirittura c'è stato un team che ha avuto difficoltà perché questo sistema di alette se non è fatto benissimo tende a ostacolare il meccanico che deve tirare sulla monoposto con il cavalletto. Quindi bisogna disegnarle bene ma soprattutto bisogna progettare benissimo anche i cavalletti elevatori perché se non vanno a combaciare in maniera anche molto come dire veloce con queste alette qua rischiano di non sollevare bene la monoposto e lasciarla cadere che tradotto in soldoni in gara un problema del genere praticamente può compromettere la corsa di un pilota. Poi a proposito di Aston Martin oggi abbiamo detto che Bob Bell ha lasciato l'Alpine e si è accasato subito in Aston Martin. Quindi diciamo che in Aston Martin non hanno perso tempo a portare a casa un ingegnere di grande esperienza. Vi ho detto che stava in Alpine quindi in Renault e ancora prima in Benetton proprio negli anni 90. Quindi vi immaginate quanti anni di carriera e di esperienza ha alle spalle. E però sempre parlando di Aston Martin parliamo un po' di Alonso e poi spostiamoci a Russell e Verstappen. Questi tre piloti sono tutti e tre collegati. Allora innanzitutto Alonso è al centro del mercato in questo momento però non si trova quest'anno in una posizione felice perché la sua vettura ha una caratteristica molto preoccupante ovvero quella di avere un'usura, un degrado perlomeno nel primo gran premio dell'anno e quindi in un gran premio con l'asfalto molto aggressivo e che tende a mettere in crisi il posteriore ebbene ha un'usura esagerata degli pneumatici. Un problema che l'anno scorso non aveva. Anzi questo era uno dei suoi punti di forza. Quindi una bella bega in casa Aston Martin e questo potrebbe spingere sempre più Alonso a cercare una sistemazione in casa Red Bull. Tiriamo fuori la manina così ci aiuta un attimino a farci capire. Sì perché Verstappen potrebbe andare a fare compagnia a Russell e Alonso potrebbe seriamente prendere il primo candidato il posto di Verstappen in Red Bull. Però secondo me ancora una volta si tratterebbe dell'ennesimo passaggio nel posto giusto al momento sbagliato per Fernando Alonso che praticamente si è trovato nel posto giusto solo in quegli anni in Renault dove ha vinto il mondiale. Poi arrivava sempre con un anno di ritardo. Temo che il prossimo anno potrebbe vedere soprattutto se Red Bull potrebbe perdere cioè perderà dei tecnici di valore. E qui entriamo in un'altra parte della puntata. Però prima mi stavo scordando a dirvi una cosa. Russell non abbiamo parlato di lui. Allora in conferenza stampa gli è stato chiesto come sarebbe essere il compagno di Max. Qual è il suo stato d'animo? Come vede la cosa? Lui ha detto e quindi ne ha parlato. E quindi in un certo senso ha confermato anche lui le trattative che comunque sono state alla luce del sole anzi della notte per essere precisi perché le immagini erano di sera in Bahrain. E soprattutto erano nel dopogara. Quindi stavamo dicendo una cosa molto importante ragazzi. Russell ha detto che per lui non ci sarebbe problema ad avere Verstappen come compagno di squadra al posto di Hamilton. Ulteriore ammissione. A quanto pare parecchie cose da questo punto di vista sono già state fatte. Quindi a meno che non salti Horner in Red Bull l'allontanamento di Max e quindi l'accasamento in Mercedes è sempre più una cosa concreta. E qui passiamo alla rubrica perché ci tocca anche oggi. Oggi nel video nel Tg giorno ve l'ho risparmiata però nel Tg sera ci tocca ragazzi. Oramai è parte integrante di questa Formula 1. Allora abbiamo una notizia bomba. Una di quelle di cui si potrà parlare per tanto tanto tempo. Ogni tanto la posso dare io una news colorita per quel che riguarda le SOP. Ecco ne ho una. Ve la faccio subito vedere. Siete pronti? Seduti? Questa è forte eh? Pam! Ecco qui la notizia di oggi. Praticamente Alonso è il vero papà, il padre naturale di Max Verstappen e glielo ha detto oggi come potete vedere. Ovviamente stiamo scherzando. Ho preso la palla al balzo per una battuta di Alberto Romano Covasso. Alonso ha detto a Verstappen sono tuo padre. Questa è la la news di oggi. E tra l'altro per questa rubrica e qui mandiamo un messaggio direttamente ad Andrea Chilli che è il nostro arrangiatore musicale anche se in realtà abbiamo diversi esponenti importanti che è il campo della musica. Abbiamo Domenico Inguaggiato che saluto che è il batterista dei nomadi e che ci segue Guedì continuo. Allora io mando un appello poi chi lo vuole fare lo fa. Abbiamo anche la sigla delle SOP in Formula 1. La faccio subito vedere. Eccola qui. Aspettate un attimino. ce la propone Vittorio. Allora ho visto lei che accusa lui che accusa lei che accusa me. Mon amour toujours ma che accusi tu. Io dico che è niente male. Potremmo aprire con uno stacchetto del genere però con la musica che non deve essere proprio quella della canzone caro Andrea perché se no ci bannano subito e non va bene. Comunque ora parliamo di robe serie per quel che riguarda la F1 Super SOP. Perché? Perché? Perché innanzitutto vi dico che non mi risulta una notizia che è circolata oggi. Poi se è vero o no non lo so. Però a me da quelle che sono le mie fonti non risulta. Ovvero che la ragazza che non so qual è tra queste cinque che ha come dire stata importunata da Christian Horner sia stata licenziata dalla Red Bull ed in particolare dalla parte thailandese della Red Bull. Ebbene io credo che questa storia qui non sia vera e poi magari arriveranno delle smentite ufficiali però intanto credo proprio che questa notizia non sia reale. Poi non so per carità. E poi vi invito a dirmi chi secondo voi è la più carina delle cinque ragazze che vi faccio vedere. Io non ho dubbi eh cioè anche al femminile è una spanna sopra. Poi ditemi voi scrivetelo nei commenti. Ma al di là di questo ragazzi la notizia seria qual è? E' quella che riguarda New Way. Allora qui torniamo subito seri. Difatti come vedete non c'è lo sfondo delle SOP. Perché? Cosa succede? Allora in un primo momento New Way aveva spalleggiato Horner e gli era stato molto vicino durante i test. Quante volte si è fatto vedere con lui. Loro due erano non molto amici prima. Poi ultimamente deve essere successa qualcosina un po' legata secondo me alla smania di protagonismo di Horner che ha infastidito soprattutto la moglie di Adrian New Way. E questo ve lo posso confermare che così è. Cioè mi hanno confermato che effettivamente sta cosa c'è stata. Però in un primo momento abbiamo visto ai test Adrian New Way molto vicino a Christian Horner. Ma poi deve essere successa qualcosa all'interno della Red Bull tra i test e la gara. Perché vi ricordate in una puntata vi ho detto c'è qualcosa che non mi quadra più. Non sono così sicuro che Adrian New Way stia ancora spalleggiando Horner. e a quanto ne so oggi è passato dall'altra parte della barricata. Cioè è più con il clan Verstappen e con Helmut Marco. E questo per Horner potrebbe essere un problema. Perché poi magari i fatti lo smentiranno. Però al momento c'è tanto attrito tra lui, cioè tra Horner e Verstappen. Tant'è che Jos Verstappen al momento non è presente a Jeddah. Quindi quello che era stato comunicato effettivamente sembra aver trovato riscontro. Però tutto ciò potrebbe portare fuori ed quando se ne parla tanto ragazzi l'affare Hamilton ce lo va a confermare. Prima o poi salta fuori qualcosa. Un fondo di verità c'è. E qual è il fondo di verità? A quanto pare c'è un team tutto colorato in rosso che sta braccando Adrian New Way. Lo sta marcando stretto e chissà che finalmente non riesca a portarselo a casa. E questo dipende tanto dal devolversi della situazione in casa Red Bull nelle prossime ore, nei prossimi Gran Premi. Sarebbe veramente un colpo pazzesco. E poi chi troverebbe lì? Un certo Lewis Hamilton. E sappiamo quanto New Way abbia dichiarato di voler lavorare con Hamilton. E dall'altro lato voi pensate che Hamilton non stia spingendo questa cosa? Io sono convintissimo di sì. Sono convintissimo di sì e qualcosina in tal senso potrebbe succedere. Andiamo avanti con il motosport perché praticamente voi direte ma c'è sempre Leclerc piano. Allora questo è il calendario della F1 Academy e il primo round sarà proprio questo fine settimana a Jedda. Certo che hanno scelto delle piste molto particolari è Jedda. Miami così così ma Jedda e poi Los Ailes secondo me sono piste totalmente sbagliate per l'F1 Academy che alla fine è una Formula 4. Miami potrebbe essere Caruccia soprattutto per il settore lento. Barcellona va bene per tutto. Zandvoord idem. Singapore è un cittadino lento e ci sta. Yasmarina abbastanza dai abbastanza però la prima gara a Jedda secondo me fanno tutto a manetta. Detto questo appunto questo fine settimana si correrà la F1 Academy e per la Ferrari ovviamente ci sarà l'olandese Maya Vogue. Stavolta tifiamo Olanda. Chiudiamo con i commenti quelli in Pulposition. Abbiamo Antonio Iacovelli, Gianluca Sanna mi riferisco al Tg Giorno, Marianna Famoso, Luis 81.000, Carmelo Pafumi e Cinci Papo. E poi abbiamo i commenti più di tendenza. Abbiamo Geom che penso sia geometra. Bucchi lo sa. Giordanov. Poi ancora Cristian Buccari. Poi grazie per quello che scrivi mi fa veramente piacere. Grazie di cuore. Poi Simone grazie anche a te. Giulio Formai. Scusami. Grazie anche a te. Grazie un po' a tutti quelli che sostenete e mi sostenete in questo canale. Bene io spero che anche la puntata notturna vi sia piaciuta. A questo punto rimandiamo a domani mattina e farò di tutto per riuscirci il video di descrizione della pista con annessa una cosa che voglio farvi vedere da tanto tempo e che qui a Jedda sarà importantissima. Un aspetto tecnico di queste vetture che grazie ad alcune immagini si nota benissimo. Quindi mi raccomando nella puntata di domani mattina cercate di non mancare. Quindi già vi sto dicendo che ci sarà. Puntata di domani mattina. 99 su 100 domani salta fuori l'annuncio della live delle FP2 sicuro. FP1 spero di sì. I post FP1 e FP2. Quindi domani siamo tutto il giorno assieme. Va bene? Spero vi faccia piacere. Un bacio. Ciao. Ci vediamo a questo punto domattina. Bye.